Il tema è la violenza contro le donne. Il silenzio ci uccide. Aiutaci. Emozioni sonore è un concorso d'arte nazionale, un concorso d'arte emergente e attraverso questo concorso vogliamo sostenere, essere a sostegno della non violenza sulle donne. Alida Altenburg, protagonista del video, sarà anche la madrina della serata finale il 15 giugno prossimo a Milano quando verranno premiate le opere scelte attraverso una votazione via web. Grazie a tutti.